Oggi è il 5 dicembre 2021 e ha così inizio il quinto giorno del calendario dell'avvento Ogni giorno un nuovo script, quale sarà quello di oggi? Andiamolo subito a scoprire! Oggi lo script si trova qui sul retro del camino Con un'apertura molto particolare E lo script di oggi è il preferito di Minuzzo Ovvero, PlaySable Magari qualcuno anche conosce Minuzzo Lo streamer che mi ha commissionato per l'appunto questa feature Ed è molto molto banale Ma prima vediamo come si attiva Se avete la mod della Redcraft sarà sufficiente eseguire il comando Slash Carpet PlaySable Plants True In questa maniera qui E poi basterà provare a piazzare i blocchi vegetali Sopra a dei blocchi inusuali Per esempio sopra a dei blocchi di legno Di solito non sarebbe possibile piazzarlo E invece con questo script è possibile Oppure per esempio su dei blocchi moschiosi È possibile piazzarli in modo che Dai insomma, sembrano delle erbette che cresce nei sassi Ovviamente però non può essere piazzato sopra uno slab Sto facendo tasto destro Però purtroppo non si piazza Funziona sia con i vegetali alti un blocco Ma anche con gli vegetali alti due blocchi E ovviamente con tutti quanti i fiori, cose strane Insomma, le cose che piacciono tanto ai builder Ma le funzionalità non si limitano solo ai builder Ma c'è anche la possibilità che possano essere utili anche ai redstoner Infatti questa funzionalità si estende anche a delle componenti di redstone Per esempio a delle bottole Quando sono chiuse, appena si aprono purtroppo salta via Ma soprattutto agli hopper Infatti è possibile piazzare la wither rose sopra all'hopper E voi sapete cosa significa questo, vero? Esattamente È possibile fare dei sistemi di killing Molto molto semplici Quindi i mob muoiono sopra l'hopper a causa della wither rose E gli item vengono subito raccolti dall'hopper In realtà sulla redcraft viene strautilizzata questa feature Quindi ci sono tantissime idee già in mente Però sono curioso Voglio vedere anche le vostre idee I vostri spunti creativi Quindi mi raccomando Inviatemi sui social che trovate sempre in giro Taggatemi ovunque E io intanto resto qui Perché domani vi aspetto per un nuovo script Ciao